Si rafforza la solidarietà del territorio in aiuto dei nostri ospedali. La campagna di raccolta fondi lanciata sui propri conti correnti da Pro Valtellina, con l'obiettivo di finanziare l'acquisto di materiali e apparecchiature per supportare l'impegno dei medici di Sondrio e Sondalo nella lotta al coronavirus, sta trovando un numero crescente di sostenitori. La fondazione è impegnata a rispondere con tempestività ai bisogni sanitari. Ultimo esempio il finanziamento dell'acquisto di 2.000 mascherine per il personale del Morelli, immediata l'attivazione di una vettura della Croce Rossa che ha provveduto al ritiro nel milanese della fornitura. Far fronte in tempi rapidi alle necessità è fondamentale, dichiara il presidente di Pro Valtellina Marco Dell'Acqua, che rimarca il contributo generoso di tanti imprenditori e dei cittadini, ciascuno secondo la propria disponibilità. Commuove poi la mobilitazione di gruppi e associazioni, aggiunge dell'acqua, che ringrazia tra gli altri la comunità senegalese della Bassavalle, l'istituto delle suore di Santa Croce di Sondrio, la Sagra di San Bello di Monastero di Berbenno, il CSI di Sondrio e Tirano, il Lions Club Tellino, gli Alpini di Ponte in Valtellina. Anche la Lilt di Sondrio ha unito le proprie forze alla fondazione per un impegno comune in aiuto ai nostri ospedali.